Massimo Orraso, dunque occorrerà attendere ancora qualche altro giorno prima di capire cosa ha deciso la Corte d'Appello di Palermo in ordine al ricorso presentato contro la dichiarazione di fallimento della Calcestruzzi Belice? Sì, purtroppo sì, siamo tutti in attesa, in ansia per questa decisione che noi ci auguriamo rimetta le cose in ordine però. Ci auguriamo che la Corte prenda atto dell'errore che ha fatto il Tribunale di Sciacca nel dichiarare il fallimento di quella società e rimetta le cose in ordine e quindi riconsenta la ripartenza di questa attività, il lavoro di questi 11 lavoratori, il regarsi di un clima sereno in quella comunità che sarà turbata da questa vicenda. Possiamo solo aspettare, la cosa certa è che però questa vicenda si è conclusa finalmente perché mentre la prima udienza si era conclusa con un rinvio adesso si è conclusa con il fatto che il giudice deciderà sull'esito di questo ricorso e quindi aspettiamo, non si tratta di ore, poi c'è stata questa Pasqua di mezzo quindi realisticamente martedì, mercoledì sapremo com'è finita. Facciamo un passo indietro, ecco cosa è successo ieri mattina a Palermo, voi eravate lì, l'udienza c'è stata però a quanto pare diciamo che tutto si saprà dopo queste feste. Sì, noi c'eravamo nella prima udienza, ci siamo giustamente ritornati nella seconda perché pensavamo e speravamo e speriamo ancora che sia quella definitiva. Solo che il giudice si è sentito un attimo le parti e poi si è riservato di decidere, quindi di sciogliere il positivo e il negativo questa vicenda. Ripeto, siamo solo corretti ad aspettare, non abbiamo da esprimere giudizio in questa fase. Poi vedremo se sarà positiva come noi ci auguriamo, ovviamente saremo contenti, se sarà negativa davvero qualche dubbio in più su come funziona la giustizia in questo Paese, lo ricaverò. Come sindacato, qualora dovesse venire fuori questa seconda ipotesi, cosa pensate di fare? Per noi prioritario è salvaguardare il posto di lavoro di queste 11 famiglie, quindi è chiaro che di fronte a questo ipotetico e malaugurato piano B ci attrezzeremo di conseguenza. Tratteremo con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e Sequestrati come garantire un futuro a questi lavoratori. Si tratterà come loro pensano probabilmente di unificare la inerti e la calcio siberice? Non lo so, non voglio anticipare scenari. Il fatto per noi prioritario è che quei lavoratori, quegli 11 lavoratori con le 11 famiglie vanno salvaguardati e quindi questo rimetteremo al centro dell'iniziativa prossima del sindacato.